Io sono Angelo Zaccone Teodosi, presidente dell'Istituto Italiano per l'Industria Culturale, ISICULT, che è un centro di studi di ricerca e di consulenza specializzato sull'economia dei media e sulla politica culturale. Condivido appieno l'iniziativa R101, sia nei confronti della veneranda scienziata Rita Levy di Montancini, sia rispetto all'esigenza di rimarcare la gravità, le conseguenze strategicamente dannosissime della riduzione dei budget a favore della ricerca scientifica. Collegherei l'argomento anche alle politiche assolutamente pericolose che il governo sta mettendo in atto anche in materia di riduzione dei budget a favore della cultura, a favore dello spettacolo e a favore della formazione. È nella ricerca, nella sperimentazione che si cresce e si crea il futuro di un paese. Quindi una iniziativa come questa di sensibilizzazione politica, con tutto lo scetticismo del caso, non può che essere scetticismo non per l'iniziativa, scetticismo per la incapacità di questo paese di concretizzare scelte strategiche e efficaci. Collegherei la figura di Montalcini, se mi è consentito, alla struttura che ha copromosso il progetto R101, quindi Ipazia, Preveggianza Telematica e ovviamente le due figure, come dire, mi permetto di dire che il Ritalevi di Montalcini è una sorta di Ipazia della nostra contemporaneità. Ci auguriamo che non faccia la stessa fine, ma ovviamente è arrivata a tarda età e quindi lunga vita, altri cent'anni e soprattutto che non faccia una fine tragica come quella di Ipazia, la gran parte, le decine di migliaia, le centinaia di migliaia di ricercatori italiani, ricerca pura, ricerca privata, pubblica e privata, che sono costretti in una situazione di sbando, di depressione unica a livello europeo.